Al via i lavori di riqualificazione dell'arteria stradale che mette in collegamento Polla e il centro abitato con la zona industriale di Torto e il comune di Sant'Arsenio. Ad annunciare l'inizio delle attese opere che renderanno agevole, migliorando i collegamenti con le due aree e un percorso stradale molto utilizzato, l'amministrazione comunale di Polla ed in particolare il sindaco Massimo Loviso insieme all'assessore ai lavori pubblici Rossella Isoldi e alla consigliera delegata all'agricoltura Luisa Trafuoci. Poche settimane la strada comunale Campi Malaspina sarà resa pienamente fruibile e si potrà godere dei frutti delle opere di messa in sicurezza che verranno realizzati grazie all'ottenimento di fondi provenienti dal Ministero dell'Interno per un importo complessivo di 670.000 euro. Le opere che saranno realizzate dalla GR Costruzioni di Palomonte prevedono la sistemazione della pavimentazione, dei sottoservizi della rete fognaria e degli impianti di sollevamento, la posa in opera di barriere laterali, della segnaletica orizzontale, verticale e di rallentamento. Saranno inoltre realizzati lavori di pulizia dei fossi laterali alla strada occlusi da detriti, arbusti e vegetazione spontanea che, spiegano dall'amministrazione Loviso, impediscono il deflusso delle acque meteoriche verso il fiume, grave e dannoso problema particolarmente avvertito durante la stagione delle piogge che conseguentemente provoca allagamenti ai campi e alle culture praticate in quella zona. Queste opere, spiegano il sindaco Massimo Loviso, l'assessore Rosselle Isoldi e la consigliera Luisa Trafuoci, fanno parte di interventi che proseguono su tutto il territorio comunale e sono frutto di attenzione e di un'importante programmazione che consentirà a fine legislatura di avere una cittadina sempre più moderna, funzionale ed accogliente. Un ringraziamento dovuto e particolare, continuano, va rivolto all'Ufficio Tecnico Comunale di Polla, alla Direzione Lavori, ai progettisti e a tutti coloro che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di un'altra importante opera finalizzata alla messa in sicurezza del territorio per avere dei servizi sempre migliori ed un maggiore decoro anche delle zone più periferiche dell'abitato.